L'arte modulare o un modulo C per archi. Tutti e tre i moduli possono essere composti o dallo stesso compositore o da compositori diversi in momenti diversi. L'unico imperativo che si chiede a chiunque desideri recare il proprio apporto è quello di rispettare i moduli precedenti. Il risultato finale è un'opera sempre aperta all'ingresso di nuovi artisti e nuove composizioni e senza finalità precostituite. Il risultato finale è il risultato finale è il risultato finale. Grazie a tutti!